Ciao a tutti ragazzi, mi sono PAUNERDS Ed eccomi qua con questo nuovo video Questa volta siamo qui con un nucleare DM27 con il mirino laser Preso su... Su, 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 cargo Ecco, la mappa cargo Che neanche mi ricordo più... Credo sia cargo, e neanche mi ricordo più i nomi delle mappe ragazzi Sarò da un mese che non gioco E... Si è finita a scuola, in modo tale da ricominciare E comunque... Allora, vorrei discutere di un argomento Che alcuni di voi sicuramente si saranno l'ottile palle Però, ecco, diciamo che alcuni mi hanno anche offeso Perché ci sono stati dei commenti brutti, brutti, veramente brutti Di persone che volevano il vlog E mi hanno scritto delle cose veramente brutte Per esempio Ora, ha commenti qui sotto mano Fabio Mastantuono Che ora lo cito perché È il commento più schifoso che io abbia letto Poi non so, magari ce ne sono stati anche altri Però... Ecco, ora lo leggo Raga, Pao non gliene frega niente De noi, lui basta che diventa come Johnny e gli altri Perché se ci teneva un vlog ce lo faceva Dato che lo stiamo chiedendo da tanto tempo Lui aveva detto che lo faceva Facci una triste, punto esclamativo Allora Ma che cazzo di commento è? Ma che cazzo di commento è? Io mi incavolo perché Prima di tutto Non ve ho mai promesso Ma questa è proprio la cosa migliore Poi Non gliene frega niente di noi Ma che cazzo dici? Cioè Questa è proprio Fantascienza Ragazzi lo sapete che io ci tengo molto a voi E per questo Anche quando in questo periodo Che io in teoria non potevo caricare video Perché Ho rimpegnato con la scuola Non potevo caricare video Non potevo neanche Giocare Vabbè a parte quello Non potevo caricare video In questo periodo Così difficile Mi sono impegnato A rispondere ai commenti Anche se Quello insomma è stato un po' A rispondere ai messaggi personali Anche se anche quello insomma è in parte E poi Mi sono impegnato anche a caricare A cercare di caricare almeno un video a settimana Insomma Voglio dire La prima cosa Siete voi ragazzi Ci tengo E spero Che voi Abbiate presente bene questa cosa Insomma Perché Se non l'avete presente Dovete averla presente Non è possibile che voi pensate Che fa parte che Johnny Crick mi sembra una Bravissima persona Però Lui basta che diventa come Johnny e gli altri A me Guardate A me del successo Non me ne può fregare di meno Anche perché Diciamo che Ha quest'arma di doppio taglio Ha quest'arma a doppio taglio Che io non voglio fare un vlog Per questioni mie Personali E quindi È inutile Che voi mi scrivete Nei commenti Fa il vlog Perché tanto non lo faccio Ragazzi E voi Se ci tenete a me Ecco Non è io che ci devo tenere Voi Dovreste tenere Dovrebbe essere una cosa reciproca Io che tengo a voi Ma anche voi che tenete a me Perché da questi commenti Sembra che voi Non ci tenete a un cazzo A me Dovrebbe essere una cosa reciproca Che se voi tenete a me Non mi scrivete cose del genere Dovreste capire Che comunque Il vlog Se Non posso farlo Per questioni personali Per esempio Una delle tante ragioni Che Mi vergogno Per esempio Voi dovete capirlo E fare Vabbè Quando Quando avrei voglia Fallo Noi comunque Siamo sempre qua Quando Verrà il momento Bene Noi comunque Ti aspettiamo Perché tanto Credo che prima o poi Verrà un momento Che ti farò un vlog Però sicuramente Il problema È che se voi Fate questi commenti Veramente mi togliete La voglia di Fare youtube E di continuare su youtube E questa è una brutta cosa E poi soprattutto Quella cosa Ma che cazzo vuol dire Non gliene frega niente Questa è proprio Volevo rispondere A questo commento Con un commento Perché Credo che sia una cosa Una cosa grave È quella che avete detto È quella che state scrivendo Nei commenti Ecco Quindi ragazzi Per favore Cerchiamo di essere Anche un po' equi Cioè Non Se io non faccio il vlog Ci sarà un motivo Non è che sono pazzo Non è che Capite Insomma Guardate ho preso il nuclear Mi pare che vada anche Un po' avanti Allora con la serie Poi comunque Io il mio canale È su Call of Duty Non è per intrattenere Io voglio solamente Andare avanti Su Call of Duty Perché quello È quello che Mi piace fare E se voi Avete pensato Di iscrivervi a questo canale Perché Volevate vedere Io che facevo il coglione No Avete Bbagliato canale Disiscrivetevi Veramente Disiscrivetevi Perché Io non voglio Spettatori di questo genere Se voi avete pensato Di iscrivervi a questo canale Pensando Di Vedere uno Che fa Gli scherzi Oppure di vedere Uno Che Fa Qualsiasi altra cosa Di fuori Di prof Tutti avete sbagliato Perché Io Ok Faccio Il video di Corso Ti faccio I commenti E Basta Quindi Se è così bene Se no Ciao Comunque Spero che Il commento Mi raccomando Scrivete la vostra Ma Non credo Che ci sia Un'altra opinione Perché Se voi Avete Un'altra opinione Veramente Se voi Avete L'opinione Concordante Questo Fabio Disiscrivete Veramente Ci vediamo Alla prossima E ciao Ciao Scrivete Qua sotto Nei commenti Ciao